ciao a tutti appassionati di anime e manga sono alas come sempre invito su mi qui su youtube su instagram su twitch e anche mi come tega per stare sempre aggiornati tutti i link come sempre trovate qui sotto in descrizione oggi andrò a fare la prima impressione di choujin x edito da jpop prezzo 6 euro e 90 autore su ishida lo stesso autore di tokyo gul ed è palese già leggerlo che ricorda in qualche modo abbastanza vagamente tokyo gul fatto sti disegni ovviamente siamo in un mondo abbastanza normale nel 1998 50 anni dopo l'apparizione dei choujin questi super uomini che attraverso il loro dna geneticamente modificato meglio dire sono predisposti geneticamente a diventare dei choujin però non lo sono alla nascita come lo diventano per contagio per artificialmente in modo naturale per varie cause in manga si apre con uno di questi choujin che riesce a mettere del fumo nero che si trova su un aereo e fa precipitare questo aereo su cui c'è elliotta che torneremo dopo però su questa persona su questa ragazzina che sta andando che è in volo anche lei il nostro vero protagonista è tokyo kurokawa già tokyo rimando a tokyo gul probabilmente questo ragazzi 16 anni abbastanza introverso timido che vorrebbe essere un eroe vorrebbe essere qualcosa di più vorrebbe aiutare di più il suo amico azume igashi che invece è tutto d'un pezzo salva sempre le persone diciamo un po' un eroe ha fatto judo karate e quindi è una forza fisica considerevole e in qualche modo tokyo vive nella sua ombra sono amici da tempo da tanto tempo e quindi si conoscono davvero tanto e decidono di andare a salvare comunque di prestare soccorso a questo aereo caduto scoprono che alla fine la maggior parte delle persone è sopravvissuta non è esploso l'aereo e non si capisce bene il motivo anzi tutti comunque pensano che sia a causa di un choujin tutto sembra scorre normale tornano a casa e un delinquente che l'avevano preso a botte almeno azume aveva preso a calci il giorno prima le aveva rotto le braccia torna da loro però però si mostra che il suo collo si allunga come a piacere è diventato un choujin come è diventato un losco figuro con la maschera gli ha dato una siringa con qualcosa dentro che ha trasformato in choujin quindi questa figura probabilmente sarà il villain che ancora non ci ha dato sapere qualcosina di mairo accademia forse qualche rimando anche qua a mairo accademia e quindi sembra che ovviamente joujin ha una forza fisica devastante sembra che anzi o meglio dire senza sembra va fuori di sé dalla rabbia è uscito di senno tant'è che stritola col collo i suoi due amici che lo seguono e li ammazza facendo esplodere la testa in poche parole e messe alle strette sia Tokyo che Azuma vedendo due seringhe contenente quel sero lì che si decidono di iniettarsele non sapendo i risultati che otterranno uno di questi e Tokyo diventerà un choujin un beast choujin con una specie di maschera da avvoltoio con un naso da avvoltoio proprio perché è molto affine a questo animale fin da piccolo o meglio gli altri gli hanno affibbiato il ruolo di avvoltoio perché da Azuma è sempre affibbiato il ruolo di leone mentre Tokyo siccome è quello che gli gira intorno come un avvoltoio che preda depreda i resti del leone Azuma e quindi è molto affine a questo animale quindi in qualche modo lo ricorda la sua trasformazione in choujin riesce a sconfiggere questa creatura questo essere questo nemico però però non riesce più a ritornare essere umano cioè con la faccia col volto normale si barrica in caso in qualche modo sembra che Azuma tenga l'istanza a lui sembra che nonostante si abbia fatto abbia messo dentro di sé questo sera non sia successo nulla sarà davvero così non ci è dato sapere però arriviamo a un altro punto ricordate Ellie Otta quella ragazzina sull'aereo che è stata attaccata dall'altro choujin che anche lei è predisposta ad essere un choujin e quindi è rimasta infettata con questo fumo nero e ha dei poteri strani particolari sta ancora cercando di capirli anche lei riesce in qualche modo a mettere un fumo nero vediamo uno scontro folle con quello che gli dava la caccia sull'aereo davvero folle assurdi un po' la mob psycho molti no sense a un certo punto vediamo esseri umani su un emoto con una maschera da pecola che a un certo punto la inseguono lei su un trattore un trattore in tangenziale andiamo a comandare perché è una contadinella lei e quindi piano piano scappa cadono da un burrone e vedi queste pecore in modo onirico che stanno cadendo dall'alto e lei ogni tanto usa questi poteri mentre quello che ne segue anche l'usa i suoi poteri però ha una battaglia molto strana molto particolare molto no sense cioè fa fatica a capire che cavolo sta succedendo cioè il lettore almeno io vedendolo dico ma che cavolo sta succedendo e niente e alla fine Tokyo e Ellie si incontreranno per un determinato motivo e entrambi alla fine non riusciranno davvero a sfruttare i loro poteri mentre un nemico sta cercando di divorarli cosa succede al secondo volume nessuno lo sa cioè bisognerà vederlo e il secondo lo prenderò assolutamente dentro il primo volume c'era questa cartoncino quindi sicuramente sarà in tutte tutti in tutti quindi mi raccomando faccio vedere magari questi disegni è abbastanza folle molto più di Tokyo Ghoul il protagonista esattamente come il protagonista di Tokyo Ghoul cioè almeno all'inizio non ha una grossa personalità sembra un ragazzo normale normale è molto introverso con un solo un vero amico però già qua ci viene mostrato diversi personaggi già nel più volume anche se ancora non c'è da sapere chi sia il vero nemico perché fondamentalmente i Choujin non sono né buoni né cattivi cioè sono delle persone con dei super poteri dei super uomini e sta la persona come usare questi poteri nel bene o nel male quindi non c'è discriminazione come in Tokyo Ghoul che tutti i Ghoul sono tutta l'erba un fascio qua come meglio Accademia ci sono gli Hiro qua ci sono i Choujin sono dei super eroi quindi cercare di capire come andrà la trama nel secondo volume come andrà svilupparsi quale sarà comunque il filo conduttore della trama come riuscirà il nostro eroe a tornare normale e a Zuma che è il co-protagonista probabilmente cosa gli succede si è visto poco anche lui si è iniettato questo serie è davvero non gli è successo niente o ha un effetto ritardato e quindi parecchie domande che mi invogliano continuare la lettura e voglio capire fino in fondo quanto vale questo nuovo manga di Suishida fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'avete letto cosa ne pensate noi ci vediamo ai prossimi video grazie a tutti